E' arrivato il momento, il momento di agire, è arrivato il momento, il momento di agire, il momento di agire, il momento di agire, il momento di agire, dobbiamo essere forti, dobbiamo essere forti, dobbiamo essere forti, è arrivato il momento, il momento di reagire, è arrivato il momento, il momento di agire, dobbiamo essere forti, 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 Grazie a tutti.